Per dare una risposta Una domanda All'onorevole Gli posso fare la domanda Però lei deve rispondere come si deve Lei riesce a campare con 800 euro al mese Io ho campato con 800 euro al mese Ma dove? Ascolti Alla sua età ne prendeva anche di meno Alla sua età anche di meno Ascolti Se lei ha guadagnato 800 euro al mese Non rubava i soldi agli italiani Come i suoi amici politici Tutti quanti siete rubani A noi italiani L'ho detto tante altre volte Io sono figlio di un venditore ambulante Ho fatto il venditore ambulante Mi sono fatto un culo così nella vita Anch'io mi voglio fare un culo così Alla sua età Facevo il venditore ambulante Alla sua età facevo il venditore ambulante Quindi rispetti Rispetti le storie degli altri Io rispetto tutti Io mi voglio fare un culo così Però non ho la possibilità Capisco la sua amarezza Capisco il suo dolore Cos'è che non si capisce qui? E si informi con chi parla Cos'è che non si capisce qui? Cos'è che non si capisce qui? Ciao